Il più importante atleta italiano di Thai Box è un giovane piemontese che vive in Thailandia dal 2007. Mattias Gallo Cassarono detiene tre cinture mondiali e a luglio difenderà il titolo di campione internazionale di WBC contro uno sfidante giapponese. Il campione è stato ricevuto a Palazzo Lascaris dalla vicepresidente del Consiglio regionale, che lo ha definito un esempio per altri giovani sportivi piemontesi. Mattias, che impressione fa essere il più grande boxer di box thailandese, italiano, piemontese che c'è attualmente e forse che non c'è mai stato? Sì, sicuramente è una cosa strana per molte persone perché il nostro sport non è così conosciuto, così seguito, anche se negli ultimi anni sta crescendo esponenzialmente. Sono molto contento di essere l'unico piemontese e uno dei pochi italiani a questi livelli in questo sport, in questa disciplina, in questa arte. Grazie per la visione!